Ricordiamo il caso di Carol Maltesi, ragazza di 26 anni, la quale è stata massacrata, torturata, ammazzata in maniera atroce, nascosta in un congelatore e poi gettata dentro alcuni sacchi di un dirupo. I giudici hanno negato l'ergastolo al suo assassino perché lei era disinibita. Lui si sentì usato perché era innamorato perdutamente e dunque agì senza premeditazione. Assurdo. Ricordiamo ancora il caso del collaboratore scolastico a Roma, il quale è stato assolto dall'accusa di violenza sessuale per aver infilato le mani nelle mutande di una studentessa minorenne, perché la molestia è durata solo una manciata di secondi. Assurdo anche questo. Ancora il caso di Mariella Marino, che è stata uccisa dall'ex marito a Troina nell'ennese a colpi di arma da fuoco. L'uomo la minacciava da mesi, continuava a ripeterle di ammazzo a colpi di pistola, di sparo. Parole pesanti e devastanti per una donna. La donna lo aveva denunciato, lui è stato condannato a otto mesi di carcere, poi la sentenza è stata sospesa e all'uomo è stato imposto di seguire un percorso di riabilitazione in un centro contro la violenza sulle donne perché è stato lasciato libero di uccidere. Cos'altro doveva fare quest'uomo perché fosse definitivamente fermato. Che cosa? La violenza di genere è da tanti anni una deriva. Sono stati compiuti passi avanti, importanti, nelle norme a disposizione del nostro Paese, ma bisogna continuamente aggiornare, perfezionare gli strumenti a disposizione. E qui vorrei aggiungere due parole sulla violenza subita dalla diciannovenne di Palermo, dal branco di sette esseri immondi perché non si possono definire uomini. E mi sono chiesta come madre, come educatrice, come questi esseri abbiano potuto solo pensare di commettere questo agghiacciante reato premeditato e con tanta spavalderira. Mi rifiuto di pensare quando io, donna, dico no. Il mio no deve essere frainteso. Quando una donna dice no, dice basta. Tu, uomo, ti devi fermare se ti ritieni tale. Non esistono attenuanti. E ve lo dico soprattutto perché questo argomento lo sento sulla mia pelle. Io questo drammatico problema l'ho vissuto in prima persona, Presidente. Conosco bene il dramma che vivono queste donne. E concludo, Presidente. Con questo disegno di legge la maggioranza non toglie nulla al codice rosso, ma giugge ben poco. Se pensate che sia questo il modo di contrastare la violenza sulle donne, si è fuori strada. Questa legge è solo un'operazione sport. Certo, però non abbiamo nulla in contrario a definire meglio un punto. Peraltro è già previsto dal codice rosso per questo annuncio che il Movimento 5 Stelle voterà a favore, ma se vogliamo veramente continuare a affrontare questa tragedia, dobbiamo fare un lavoro più serio. Si deve fare molto di più. Grazie, onorevole. Grazie, onorevole. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.